E' stato inaugurato a Roccaranso in località Remogna un impianto di guida sportiva sul ghiaccio, lo Snow Driving. Ha partecipato all'ependo il pilota Fabio Barone, detentore di ben quattro record mondiali, l'ultimo a settembre del 2021 battendo Google Maps Roma Capo Nord in circa 45 ore con una Ferrari F8 Tribute. Barone è anche presidente del club Ferrari Passione Rossa. Spesso si pensa che il fatto di essere nativi in questi posti ti permette di essere oltre la tecnica, invece qui si apprende la tecnica delle sbandate d'emergenza o delle frenate sul ghiaccio, quindi è fondamentale. Madrina delle inaugurazioni del nuovo impianto è stata la Showgirl, Matilde Brandi, lo Snow Driving Roccaranso, oltre ad essere una pista per automobili sul ghiaccio, è anche una scuola di pilotaggio in condizioni estreme. Prossimamente inizieranno specifici corsi, una pista dedicata a chi vuole imparare, migliorare le proprie capacità di guida e soprattutto affrontare le difficoltà di percorsi indevati al volante della propria auto, in tutta sicurezza. L'onore di aprire il cancello per la prima volta ovviamente è toccata a Matilde Brandi, madrina dell'evento. Vediamo. Migliorare la mia guida sul ghiaccio perché noi donne, devo dire, siamo bravissime al volante, però in caso di neve o di problematiche, quindi come dobbiamo fare? Però questo è un corso meraviglioso che invito tutti a farlo in un posto meraviglioso come questa piana qui a Roccaraso e imparare a guidare sicuri anche sul ghiaccio, sulla neve ed è una, insomma, fare una bella giornata di sole, come in questo caso, di neve, di così, di condividere con gli amici anche per una guida sicura. Quindi perché no? Noi donne in maniera particolare. Per me è veramente un sogno essere qui oggi, poi veramente una giornata così bella. Grazie, grazie a voi, grazie a Roccaraso e a questa meravigliosa pista qui dello snow driving. All'evento organizzato da Roccaraso Snow Driving hanno partecipato giornalisti di radio, televisione, stampa scritta, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Roccaraso Snow Driving non è solo una pista, ma è soprattutto un'accademia di guida con istruttori professionisti dove il Drey Finn sul ghiaccio è la materia principale. Il progetto dà cerno un'idea del pilota Albert Colaianni e altri piloti esperti appassionati di auto sportive. Si rivolge a chi desidera imparare, divertendosi a dominare la neve, a chi vuole sentirsi più sicuro alla guida della propria auto anche in condizioni di scarsa aderenza, a chi è già esperto e desidera migliorare le proprie perfette. Con una scuola di pilotaggio per guida sicura, guida anche sportiva o eventualmente anche guida estrema, cioè per i più bravi, per i migliori. E' aperta anche ai giovani, assolutamente, ai disabili. Guardiamo con un occhio particolare, ci sono tantissimi ragazzi disabili che a tutt'oggi hanno la possibilità di venire e già abbiamo contattato parecchie persone, quindi c'è un interesse, speriamo che, crediamo insomma, perché insomma siamo dei matti che abbiamo fatto questo posto unico, ripeto, unico dal centro-sud. Non esiste una pista come questa che tra l'altro ha una illuminazione notturna, per cui con una possibilità di esprimerci tutti quanti, divertendoci e imparando, perché il nostro motto è divertimento e apprendimento. Uno staff di istruttori professionisti sarà sempre al fianco dell'allievo tra curve e pendii e gli farà vivere momenti divertenti ed indimenticabili. Ma non è finita. Per chi trova una vacanza senza auto, può usare anche, messe in disposizione dell'organizzazione, altre vetture moderne, anche a trazione integrale, ibride o elettriche, ad impianto ambientale zero. Il circuito è lungo quasi 700 metri ed è fornito di impianti di illuminazione notturna. Oltre all'impianto a pioggia, mezzi speciali per la stesura ed il compattamento della neve, comportevole la struttura aderente alla Briefden. Servizio bar, ristorante, parcheggio, perfino un eliporto. Lo staff rocker house no driving ti aspetta, e ti aspetta per un'avventura straordinaria, ricca di adrenalina, certamente indimenticabile. Grazie.